Buonasera, mi chiamo Ennio, sono un corsista della DGio Academy. Ho scoperto l'Accademia su YouTube mentre cercavo dei video tutorial sulla pasticceria. Inizialmente ho visionato le prime 5 lezioni gratuite che l'Accademia mette a disposizione. Sono rimasto impressionato per la semplicità con cui lo chef riesce a farti cogliere delle ricette, delle tecniche in modo molto molto semplificato. Comincio a capire che la pasticceria è un mondo molto complesso e tecnico, ma lui riesce con queste sue capacità da oratore, in maniera anche empatica se vogliamo dirlo, a trasmetterti molta tranquillità, molta serenità nell'apprendimento. Una persona molto competente e umile allo stesso tempo perché tanti professionisti del suo calibro non si metterebbero mai a fare un lavoro del genere. Lui ci dà la possibilità di vedere e rivedere, grazie a questa piattaforma online, delle lezioni che se dovessimo andare a fare dal vivo non riusciremo mai ad assorbire così tante nozioni. Perché appunto è un mondo molto tecnico. Ringrazio l'Accademia perché mi sta continuamente vicino alla Fiorella che mi scrive se va tutto bene, allo chef stesso che nel momento in cui io ho avuto due o tre perplessità riguardo allo svolgimento di una ricetta, lui nell'immediato, neanche tre o quattro ore, mi ha risposto. Cosa che lui garantisce dalle 24 alle 48 ore. Incredibile, tre o quattro ore, lui ti risponde. Quindi io sono sereno e tranquillo che ho qualcuno alle mie spalle che mi può assistere. Le mie attenzioni sono serie. Io mi do dall'uno a due anni a poter diventare un professionista. Quindi mi auguro di poter fare un altro video dandovi delle bellissime novità.